Musica Allora io mi chiamo Alberto e lei è Teresa Giulia Elisa Mi hanno chieso Dio Io mi chiamo Luca e sto mangiando un panino Io Jasmine Comincia più giovane Manuela, la mia mamma Eleonora, Andrea, Agnese Paolo, Nicolmi Io mi chiamo Roberto Sono Enrico Mi chiamo Leonardo Elisa Antonio E Diego Alba Il 2019 devo essere assolutamente in forma come oggi Con un lavoro però Sì esatto con un lavoro In qualsiasi filità con un lavoro Nel 2019 io mi vedo sposato, felicemente sposato Anche io Bene Con almeno tre bimbi di cui preferirei il primo maschio Speriamo ci sia sempre il lavoro Finché c'è il lavoro c'è tanta speranza Speriamo ci sia la salute Speriamo ci sia la salute Speriamo ci sia la salute Speriamo felici come oggi Sicuramente più Dopo essere uscito dal lavoro sbaccarmi in un bar di fronte alla tassena Insieme Insieme Con un lavoro Speriamo un lavoro Con un lavoro, un'attività mia Io voglio sperare di vedermi ancora intanto Noi speriamo anche noi per lei Sì sì di vedermi bene E più che altro spero di vedermi che mio nipote abbia qualcosa in cui sperare Speriamo 27 anni, no anzi di meno 6 anni 4, non so 5 anni Come un replicante, ovvio Il giornalista che è tutt'ora già svolto Sempre belli, più giovani Sempre young and rich Non l'ho detto Sarò uno storico dell'arte E continuerò a vivere qua Molto bello Non so neanche come vi vedo domani Quindi figura Immagino un po' come oggi Sempre più appassionato di viaggiare Con un luogo come questa bellissima città Con un bel lavoro fisso Magari nel mondo della comunicazione Ancora qui, spero Nel 2019 ho visto che sono registratrice Spero finalmente di fare solo questo lavoro Sì, siamo qui per studiare mosaiche Quindi spero che in 5 anni Siamo molto meglio a fare mosaiche E spero che abbia rilassato la nostra città in Los Angeles Con bellissima arte Spero che nel 2019 Scania come in cura Eh, Diego ci darà del filo da torcere La vita in un anno Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti